Siamo aperti al confronto, nessuno può vantare un diritto di prelazione, ma tutti abbiamo il dovere della responsabilità. Così ha dichiarato il segretario del PD Erico Letta poco dopo la riunione a casa di Giuseppe Conte e che ha visto anche il ministro Roberto Speranza. Non c'è nessuna intesa sul nome, ha aggiunto Letta, perché ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni. Sulla stessa linea l'ex premier. L'incontro è andato bene, siamo pronti a un'azione forte, a un confronto ampio, condiviso. Ovviamente andrà rimosso dal tavolo, andranno rimosse candidature di parte, in particolare quella di Berlusconi, ma assolutamente siamo pronti ad offrire al paese e a tutti i cittadini che aspettano un presidente o una presidente autorevole, che possa rappresentare tutti, possa garantire l'unità nazionale. Un nome condiviso dunque per garantire continuità al governo, nella consapevolezza dei problemi che ne seguirebbero e della difficoltà di proseguire in un quadro di maggioranza di governo che senza Draghi, Acchigi, ma Alcolle, difficilmente potrebbe reggere. Se si va a una frattura forte è difficile mantenere un livello di unità, insomma le due cose è difficile tenerle insieme. Non ho dichiarazioni da fare stamattina ragazzi. Rimossa la candidatura di Silvio Berlusconi si penserebbe ad un ritrovato dialogo, che però trova un muro, quello di Giorgia Meloni, che ha riunito l'esecutivo di Fratelli d'Italia. Se questo è uno sciogliringua per una volta ancora pretendere di avanzare un candidato alla presidenza della Repubblica, sia espressione della sinistra, è un'ottima tattica che comunque scivola sul piano inclinato la nostra indifferenza. Grazie. 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 Grazie.